Molino dalla Giovanna dal 2008 partner ufficiale di Repanettone fornisce tutti i migliori pasticceri d'Italia con le sue farine cosa comporta questo compito? Buongiorno a tutti ovviamente si è complicato abbiamo la responsabilità di fornire quello che la materia prima la base del panettone e quindi dietro a quello che può sembrare un semplice sacchetto di farina c'è una ricerca uno sviluppo di tutto quello che è partendo dalla migliore materia prima che acquistiamo in Italia o nel mondo tutto quello che è la produzione quindi con il nostro sistema particolare di macinazione delle singole tipologie del grano che partono ovviamente prima dal lavaggio del cereale che è questa unicità che abbiamo quindi ci vuole poi soprattutto una costanza quindi una qualità costante la farina per panettone deve essere il più possibile uguale sempre ogni lotto per cercare di dare una sicurezza all'artigiano che produce senza dover cambiare la propria ricetta Tanti tanti complimenti e alla prossima edizione Grazie alla prossima